Il controllo per l'arber tunnel per i mezzi pesanti è da questa parte, stavo tirando a dritto, roba che mi scuoiano vivo. Se invece qui sulla destra, ora qui dentro, mi infilavo di là, sul ponte, sulla sinistra, di là si andava al passo, passo che ho fatto varie volte in moto però, termoscanner, c'è il controllo termico anche qua. Questo semaforo rosso, ecco, è diventato verde, posso entrare. Quello lì è con merce pericolosa. Allora, questo è il tunnel, lì c'è ancora la neve, l'avete visto, di fianco, è una zona dove il sole non ci batte neanche a pagarlo, quindi è facile che rimanga la neve più a lì. Eccoci qua. Adesso abbiamo 10 km e spicci di questo tutto qui. 80 orari di velocità massima. 9 km e mezzo all'uscita. C'era scritto la sulla parete della piazzola della sosta d'emergenza. Qui adesso sono, vabbè, 9 km e mezzo. Allora, di là erano 9,5 km e 800 metri dall'ingresso. Quindi questi sono 8,7 km all'uscita e 1,6 km dall'ingresso. stanza di sicurezza da mantenere qua dentro, se non ricordo male, erano 50 metri. Anche se direi che al momento non ho quel problema io. come dicevo, l'asfaltatura non è non è male, non è male, non è male per niente in questo tratto, poi dall'altra parte mi sembrava fosse un pelo peggio. c'era qualche... c'era qualche... ed è anche più stretto come tuo, ma è anche stato costruito prima, parecchi anni prima rispetto a questo. il pedaggio qui quanto sia, non lo so, perché con il camion viene tutto in fila, paga tutto la go box, pago col telepass. visto nel mio telepass che vedete lì davanti a voi è inglobato anche la go box del pagamento del pedaggio qui in Austria. quindi entri qua dentro, c'hai un bip davanti, un bip quando entri, un bip quando esci, finisce tutto nella fattura. adesso non so se viene fatturato con due voci diverse o rimane un'unica fattura da... praticamente da... dalla Rastation Bodensee fino al Brennero. questo non lo so, lo scoprirò quando mi arriva la comunicazione che è stata emessa la fattura. anche perché quella fattura lì non arriverà... forse... forse non arriva come fattura elettronica. adesso devo vedere che... il conto... no, non dovrebbe essere messa come fattura elettronica, quella austriana. quella tedesca sì... quella tedesca sì, mi ricordo che mi era arrivata come... mi era arrivata come una fattura... dalla... dall'Italia. era arrivata dalla sede... telepass di Firenze. il pedagio tedesco, il pedagio austriaco no. il pedagio austriaco mi sembra che arriva... arriva una fattura a parte dall'Austria. per cui quella non essendo elettronica... volevo scaricare e poi consegnare al commercialista. due chilometri e mezzo... alla fine del tunnel... alla fine del tunnel... la fine del tunnel... la fine del tunnel... looo... looo... Grazie a tutti. 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 Per questo soglilingua non me lo riesco a fare. L'Arlberg è finito. Ragazzi a voi. Grazie a tutti.